sta aumentando i livelli della sua del suo auto attacca e con venti cuci a non c'è manu ecco l'ho fatto fare a me se volete cambio popo metto quello che ti diverti a giocare tanto mi pare che schioppiamo qualsiasi cosa vedremo su questo dominio su questo dominio se uno pula quello ha le muto che rotola qui ti diverti no io non avrò il primo è arrivato perché ora il pupetto ma cammina solo come se contro contro di sinistra coraggio in tutto il casino non ho visto se ho prodotto danni o meno ma mi sa che sei morto e ho prodotto danni sei morto? non lo sai anche perché qui dentro sei ma te qui si deve essere dei più pochi mamma mia mi sento io sto registrando proprio per vedere quanti danni sta facendo su Crosa la mia Crosa è fortissima questo sarà un video tipo me and the boys versione short ho portato a Venez praticamente quasi al massimo e c'ha 89 di livello finita l'arma e penso che quindi il massimo che ho fatto questo su Crosa mia è ancora al 70 ce n'ha anche o di strada oh mio dio si è suicidato oh my god non posso neanche salire cioè buttati sotto o fai a walk of shame che cosa brutta ah sta muoveranno il mare non ho lasciato a me perché mago del cazzo non ucciderai ancora su Crosa si invece sta uccidendo su Crosa ancora perché sa che so il più forte ci mi ho messo tantissimo stavolta eh si qui ho fatto due volte dai si un'altra lunetta che se ne frega dai vai vai mi hanno buttato fuori ah dovevamo uscire quindi? si wow metto cazzo a questo punto si vai vai aspettate che cambio l'artefatti se tu metti cazzo a sto punto io porto un altro elemento porto l'elettro allora come vi pare? allora guarda facciamo una cosa giusto perché stiamo facendo le cose for fun allora weapon switch questa switch confirm yes artefatti switch pdp artefatti del suoi esatto scusate ma a me bei ti devo che cazzo fare appena trovo un modo per buildarla come dio comanda forse andare a fare cosa gli serve gli altri fatti quelli dell'elettro aspetta 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 ho famo dentro aspetta 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 voglio non declinare grazie sta streamando si oh romina is in the house no aspetta ho sbagliato pupetto dobbia a io pure aspetta aspetta eccolo qui ready player one una cappella che secondo me bei du dovrebbe attaccare un po' più veloce spero che con l'animo attacca un po' più veloce ma tra i spadoni solo un razor è quello più veloce l'altro è tutti lenti razor è il migliore del mondo razor è un campione cioè chongyu è un po' più veloce solo quando butta l'area perché gli è da 18% in più ma non è niente 18% no ci sono quasi 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 non mi chiudete fuori vi prego go 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 guarda ecco come se ocupa del mago grazie se non stai violenti con su cross se non stai più veloci no c'era una certa euro non so quanto l'attacco che faceva 250k ma è ora qui dentro non spegne tantissimo perché comunque per me vuoi continuare si risubisce il piaccio no però il danno il danno fisico il piccolo soffre devo arrivare prima del zampecorte oh capitano giustamente non c'è io pensato perché l'avevi presa in realtà l'ho preso solo per così a caso salve 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 nel cerchio 10 secondi più rapidi rispetto a su cross è stata in botte d'orbi no questo è stato un po' più l'ho solita fa due volte la cura è un po' più lenta ecco la letra solo che vedi in tutto questo bordello per esempio con bei turno gliela fai a counter alla roba no per l'altro che sul ciccione suficientemente tanto che non c'è perché considerando che Klee butta giù il ciccione con l'attacco caricato lo butta giù fisicamente fa cadere per terra poi la C2 dei Klee è forte anche per qui di caldato un po' più prima abbiamo fatto meglio che Manoè non c'aveva la Q carica all'inizio se Manoè non c'aveva la Q carica all'inizio finito la resina era al 99% adesso c'aveva la Q preciso Dario, famo altro? eh, quante resine c'hai? no, io non avevo fatto le daily ma non avevo fatto le resine di oggi io ero 160 più 4 più 4 condensate what? spero che ci troverai l'ira del Dio qua dentro eh, quello che c'ho c'è due volte che mi dà le piume dell'altro set guarda che Ganyu pure c'è da vestirla tu ha fatto 9k di splash ne puoi fare 40 bene adesso ho pure carica oh oh io c'ho già la Q carica e c'ho 10 secondi di tempo prima di fa qualcosa poi botte da 200 penso che Ganyu non la vesto mica con quel set lì la vesto con il Wanderer io pure c'ho il Wanderer però se c'è il Blizzard Strayer fatto bene è meglio mi è spiegata guarda tu ecco di Katsua con le foglie lo so, è bellissimo Katsua è un boss è morto è morto è caduto da sotto questo è buono mi sa che è una brainwave è scesa da sotto è questo un suicidio? no, devo andare a trovare i tesori ma puoi fare questo tu? Yuka vincere le corse con Katsua vai 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 Orange Bob Squared Spence ancora non c'ho eccola la ultimate è prende il sconcaccio del mago è ormai è fatto il mago basta che c'è del fuoco è mettendo l'ultimate per il prossimo uccidio eventuale è bello smaciullare cose con voi mi piacerebbe vedere quanto vado su di attacco quando ci sta i buff di Emanue io ho guardato però adesso se fanno un altro ciro quando quando colpisco il cazzo del cazzo faccio un volta mette perché faccio la Q e la E sul cazzo del cazzo di cazzo quindi posso bruciare quindi posso bruciare un traluneto adesso io guardo 2.690 ho appena visto un counter da 78 44 record no se lo sapevo non lo sprechiamo ma e vabbè faremo un giro veloce un giro più lento comunque arriva a 2.540 d'attacco voi pure dovete riai esacerati con Emanue c'è il doppio buff pure dell'arma il mio lì dentro c'è la 3.000 d'attacco quindi e c'è il 1.2 quindi i vostri dovrebbero avere almeno 4.000 il mio è un support eh al 70 adesso ma se tu guardi mentre stai nel cerchio di Emanue col doppio buff quando è partita pure l'arma vai su spettacolarmente poi eh c'è abbiamo pure il buff tuo del coso del wolf gravestone questo è uno stupro gratuito ragazzi mamma mia ah io ma tengo l'ultimate per dopo metà metà dei colpi a me non mi entra perché me lo tira su clic capito eh no tirate su insieme perché fa l'overload ah scusa eppure ah io non t'ho visto ancora fa l'ultimate sai non ci fa caso sto nel gruppo caso a me mi diverte punto l'ultimate l'ultimate declin la fa con ben la mano ma ci ho fatto mille volte la evito perché se no muore troppo veloce è splexata mamma mia vai 2.840 arrivamo io io arrivo con pure veido 41 ma si è visto eh attenzione mi ha dato una coppa physical damage bonus ma sotto è death death attack che schifo hai triunfato troppo presto allora ho fatto la migliore della serata c'hai capito a parte che è brutta no non posso manco riciclarla su su un altro personaggio no è troppo brutta se poco lo devi klits ha un po' corte klits è morto l'anima che è brutta no vabbè basta con il tipo oggi quindi teresine siamo andati alla grande 41 secondi lei hai portato eula più su dell'80 pensate che debba portarcela mi sa che tra 80 e 90 non cambia tanto l'importante è che è ascesa 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 non so non credo che cambi così tanto tra 80 e 90 171 foglietti risparmiate lì per adesso sì anche perché tutti quelli che ho 100 foglietti ma siamo sempre come io me curo me stesso allora quanto fa le mie spade grandissime che fanno 2000 con tutti i buffo probabilmente i vostri 2003 oh la botta lo finito spammo acqua come pochi al mondo allora allora sono morto sono morto sono morto Oh, regà, eccolo, eh. Sì, sì, è ghiacciato. Perché mai non ardefatto crit rate. Per adesso uccidi, perché non c'hai molto crit. Vediamo chi è ghiacciato. Oh, forse ho fatto troppo presto. No, mi sai, devi riscaldare solo tu qua dentro. Qui c'è gente che ha speso 200 resine oggi. Su 180 che ce ne dà. E te che qui ho un cibo perché sto per terra. Che soledà è una misura. Ma a te non posso switcherlo a personaggio, vero? No, non uscissero. Allora, i danni che vedo 5.000 di acqua, credo di essere io e non tartaglia. Oh, sono morto. Commisi l'errore. Qualcuno è morto? Io, io. Ah, ok. Non anche i miei, c'è. No, appunto, so che sei tu che fai. Io dovrei fare mille, mille e due. Penso c'è tu a tirarli ciossi, bastardi. Eh, sì, c'è più l'acqua che mi piace. Aspetta, però, almeno questo l'acqua. No, porco due. Troppo ha talmente tanti danni da quelle pallette del merda. Ci vuole... Anche quell'altro è benissimo, perma-freeze. Ma mi ha ammazzato le pallette del dominio? Sì, è troppo più l'acqua che ho visto. Ovviamente, farlo corpo a corpo è un casino. Guarda, switcho a... C'è se ne vede una... Forse una Barbara qui in mezzo. Barbara? Esatto. Perché Barbara? Quanto è che non uso più, Barbara mia? Perché Barbara, quando puoi venire a prendere Cici, cazzo? No, perché dentro è acqua. Eh? Manuel, porta un po' Mona. O a Diona, scegli tu. Io porto quell'altra. Se volete porto Mona, io e te, Diona. Ok, io non doi scudi a tutti. Però è bene uguale. Se hai i scudi più alti di me, io ho solo alcune più alti di tu. No, no. Manuel, tu ce l'hai... Io ce l'ho C0, tu ce l'hai C6, tu dai i scudi a tutti. Ah, sì, è vero. Ma no, fermi, la porto io a Diona. Ok. Chi porto io? Io allora porto... La porto a Mona, allora, a questo punto. Così. Puoi portare a te, a Gagno, Giacomo? Non serve, c'è caso a... Mi affido a... Mi affido a Dario per i danni. C'è un certo taglione che... Capirai un po' con i Megagure extra. A quanto ce l'hai, Duna, Cio, Diona? All'80 sceso. No. C? Boh, C2 forse, aspetta, è un dubbio. Spero C2 perché se no non c'è uno i scudi. Eh, oh, aspetta, mi pare che era C2, però... Mi fatto in dubbio. Costellazioni, C2. C'è un posto. C'è un posto, sei un lusso. Cambio l'arma. Questo personaggio non mi piace, però... Ammetto l'aver il fatto io. Perché Mona più... Più Diona uguale permafreeze, mi aspetto, eh, raga? Sì, sì. I tartaglioni. I permafreeze sui maghi, perché... Le ballette, i studi. La prima lanciata. Divertitele. Odi fra sette secondi. La mia non spamma come quella del Manuel. Divertitele. Pure. Scusi. Oh, è arrivato i maghi. Quale volete andare? Ah, quello? È stata decisa... No, ma è bene. Finimo, 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 finito. Otto secondi, scudi. Spero che avremo finito tra otto secondi. Scusi. 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 Tu sta. Miseria. Finito le resine di nuovo. No, finisci. Vamola senza... No, è finito, è finito il resine per stasera, basta. Sì. E per stasera ci fermiamo qua.